Ciao a tutti, bentornati, quattordicesimo episodio, nello scorso episodio abbiamo perso questa battaglia purtroppo, ho tentato di assaltare Karak Ungor, ma è andata male, in particolar modo perché ho sottovalutato i loro tiratori. Non avevo truppe, non avevo unità adatte a affrontare questo tipo di esercito in una città fortificata, non avevo Varga, non avevo pipistrelli, solo una, e non sono riuscito a tenere impegnato i loro tiratori quanto basta per far fare agli errori delle cripte al loro lavoro. Niente, adesso, credo che elimineremo questa armata perché non ha molto senso tenere queste unità, mantenerle, essendo un territorio nemico, ma andremo subito un'altra armata a finire il lavoro perché è importante eliminare Karakadrin il più possibile. In questo episodio arriverà la prima ondata del caos, tra l'altro. Quindi urge Trattare al suolo questo sediamento e prepararsi. Cercheremo di potenziare al massimo le nostre strutture per avere più introiti e di creare delle armate adeguate a affrontare il caos. Questi li eliminiamo. Elimino tutto, addirittura. Anche Manfred credo che lo posso reclutare di nuovo fra alcuni turni. Facciamo così e ci leviamo il problema, diciamo, perché non potrei comunque passare di qua, dovrei passare dall'altra parte, quindi non ha senso. Finirei per logorare all'infinito. Com'è che si faceva qua? Ricordo. C'era un modo per... Ok, così. Vabbè, quindi questa armata dovrà andare subito a nord. Un paio di questi, magari. Qui abbiamo Vargas, abbiamo un'unità di pepistrali vampiro. Comunque come struttura siamo messi già abbastanza bene. E' un'unità di pepistrali vampiro. E' un'unità di pepistrali vampiro. È l'unità di pepistrali vampiro. Sì? Sì? No! No! Nightmarch! Two, Bronson. You're dead. Spread the rot! Thank you. Do not underestimate. Darkness comes. Lies. 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 Grazie a tutti. 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 Don't think so. Begone. It is night. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. What? Marche. This is... This better be important. Come, come... thun... thun... right is... right is... night... 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 ... Let us make do Find me, Grave Pounds I need more minions I need more minions I need more minions I need more minions ... ... ... ... ... ... ... Alla prossima La scuola è arrivata. I have to move Hellish figure Darkness comes I have to move No, 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 no. Watch. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. This night. The Empire. Move. Mars. The Empire. Grazie a tutti. I serve no master Ready Move Now Now Grazie a tutti 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 No Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Now Grazie a tutti 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 Ciao Grazie a tutti